Tragedia in superstrada Fossombrone, ottantenne investito e ucciso da un'auto, stava attraversando la strada per raggiungere la stazione di servizio. Caro carburanti, benzinai congelano lo sciopero in attesa del decreto, prezzi aumentati e clienti in calo. Sono due settimane che si lavora a circa il 30-40%, pensi quanto abbiamo perso. Asfaltatura verde, nuove illuminazioni, più di 300 posti auto al via e lavori nel parcheggio dell'ex forboario a Fano con chiusura a step, interdetta da oggi la parte centrale per i sottoservizi, predisposta alla navetta gratuita per le tre domeniche del carnevale. Vuole regalare ai cittadini acqua depurata ma gli viene negato l'allaccio? L'appello di un agricoltore supportato dal consigliere della Lega Gianluca Ilari, che precisa ci sono tutti i presupposti per poterlo fare, si attende una risposta scritta da parte di Ase. Molti dubbi e poca trasparenza, a Torraccio di Pesaro si infiamma la protesta dei residenti contro il biolaboratorio, scatta la petizione del comitato e la convocazione in regione del responsabile dell'Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche. Tra poco dopo il telegiornale torna in diretta primo cittadino ospite il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli Lunedì 16 gennaio, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia accaduta ieri poco dopo le ore 18 lungo la superstrada Fano Grosseto dove poco prima dell'uscita di Fossombrone Est un uomo è stato falciato e ucciso da un auto. A perdere la vita è stato Vittorio Bernardini di 80 anni, residente nella provincia di Rimini, che sarebbe rimasto senza carburante nella Land Rover sulla quale viaggiava in direzione Monte. L'anziano, dopo aver accostato il mezzo nella piazzola, avrebbe tentato di raggiungere l'area di servizio Agip attraversando la strada. Purtroppo però è stato investito da un SUV con a bordo una coppia di pianello di Cagli. Il conducente avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver travolto una persona ma di aver sentito un colpo. Infatti dopo una decina di metri si è fermato ed è tornato indietro, a piedi. Quando ha visto una scarpa in mezzo alla careggiata ha chiamato i soccorsi. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rivenuto oltre il guardrail nella scarpata. La salma è stata portata all'obitorio di Fano a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Pesore invece è stata trovata morta una donna di 80 anni. È successo questa mattina in via Rossi dove i vicini di casa, non vedendo l'anziana, hanno lanciato l'allarme. Sul posto il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco che dopo essere entrati da una finestra hanno rivenuto il corpo senza vita dell'ottantenne che probabilmente è stata colpita da un malore. Torniamo a parlare del caro carburanti. Tra il governo e i benzinai è scattata la tregua. Lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio resta congelato. I gestori infatti attendono di vedere il testo del decreto sulla trasparenza. Allora sentiamo i dettagli nel servizio e poi il parere della gente. Un passo indietro dei gestori delle pompe sarebbero state le rassicurazioni del governo ad accogliere alcune richieste dei benzinai, a fermare lo sciopero già in agenda per il 25 e 26 gennaio. Al momento resta congelato in attesa di un confronto che prosegue a partire dal tavolo tecnico fissato per martedì. Dietro le polemiche degli ultimi giorni sul caro carburante scoppiati all'indomani della fine del taglio delle accise c'è l'approvazione del decreto trasparenza che prevede sanzioni per chi non si attiene alle nuove regole. Tra queste quella di esporre il prezzo nazionale medio che verrà elaborato quotidianamente dal Ministero dell'Ambiente e quello praticato con il rischio di pagare una multa fino a 6.000 euro e per i recidivi di vedersi chiudere la pompa da 7 fino a 90 giorni. Paletti giudicati eccessivi dagli addetti ai lavori tanto da portare l'esecutivo a introdurre una rimodulazione che sarebbe già stata inserita nel testo oggetto di modifiche. Da qui le rassicurazioni ai benzinai che si sono convinti a sospendere lo sciopero. Oltre ad ammorbidire le sanzioni nel testo sarebbe stata inserita una distinzione tra i ritardi e le omesse comunicazioni nell'esposizione dei prezzi. Ora l'intenzione è quella di esaminare il testo del decreto sulla base di quanto concordato nell'incontro tra le associazioni di categoria e il governo. In una nota le sigle sindacali hanno spiegato che si apre un percorso che può portare a rivalutare lo sciopero proclamato per fine mese. I gestori hanno puntualizzato non hanno alcuna responsabilità per l'aumento dei prezzi né per le eventuali speculazioni di cui si è parlato. Le accise sono imposte che gravano sui carburanti, accise che sono state ridotte in parte, ma dal primo gennaio queste riduzioni sono state abolite causando rincari ai distributori. Qualcuno sostiene che ci siano anche speculazioni, che cosa ne pensa? È vero, c'è una speculazione perché quanto hanno tolto le accise noi eravamo pieni e non ci è andato ancora niente. Adesso che le accise ce le hanno rimesse nei salbatoi ne avevamo nemmeno la metà. Dunque è una speculazione che fa o il governo o le società. Qui non ci piove per nessun motivo. Quando pensa che i prezzi dei carburanti si abbasseranno? Questo è un problema dirlo, però io dico che il petrolio sta calando, il metano sta calando, ma i prezzi stanno calando pochissimo sui distributori. Ma io dico solo una cosa, come si fa una stazione come l'Agip, l'Agip Leni, che hanno i prezzi più alti di tutti noi e sono stazioni dello Stato più che parte, sono parastatali. Allora noi cosa dobbiamo fare? A noi gestori ci danno una sciocchezza, non ci stiamo dentro con tutte le spese che abbiamo dentro. Poi se uno è ai dipendenti, tocca chiudere. Con l'aumento dei prezzi registrato una maggiore attenzione agli automobilisti nell'uso della macchina? Sono due settimane che si lavora circa il 30-40%, pensi quanto abbiamo perso. In alcuni distributori in autostrada la benzina ha toccato livelli molto elevati, come si spiega secondo lei? Queste sono le compagnie che fanno questi prezzi, i gestori non c'entrano niente. Lei che cosa pensa che accadrà in questo paese se nel giro di poco non si troverà una soluzione? Guardi, il governo è stato insediato circa tre mesi, quattro mesi fa, bisogna aspettare almeno un anno prima che questo governo si vede qualcosa. Ci dovremmo adeguare con i nostri prezzi e quelli che sono i costi. E le persone meno abbienti come faranno? Ci vorrà un sistema sociale che le aiuti, con le tasse che paghiamo penso che si possa fare questo e d'altro. Cerco di usarla di meno, preferisco magari se devo fare piccoli spostamenti, uso la bici, uso, vado a piedi, la macchina la utilizzo che mi serve, carica qualcosa che ho bisogno per forza della macchina, altrimenti lascio stare. Troppi aumenti, io avevo la macchina a metano e ho fatto il GPL, oggi l'ho cambiata, con il metano non ci faccio più. Quando pensa che i prezzi si abbasseranno dei carburanti? Ma guardi, io penso che ancora, l'idea che oggi parlavo nel governo, che ancora sarà fra due o tre mesi se poi tutto va bene. Io sto vedendo già da questa settimana molto molto più calmo, perché non so, calcolo la crisi o quello che è, caro benzina, ma la gente viaggia molto molto calmo, molto meno. Come vede il futuro del nostro paese? Ma malissimo, qui se non entra qualcosa andremo in una crisi molto brutta, secondo me, perché qui ho troppo aumenti e il costo della vita è aumentato tre volte di più. Si parla di accise, il tema del giorno, che cosa ne pensa? Ma guardi, ne pensa che lo Stato, come ha detto ieri anche la Meloni, le hanno riaggiunte per aiutare anche questo 30 centesimi in più e per risalare altre cose, ma comunque il gatto che morde la coda ha aumentato più quello per aiutare, ma dopo la gente gira di meno c'è in un altro senso. L'unità operativa di pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano ha un nuovo primario. Il dottor Lorenzo Tartagni, 55 anni, ha preso servizio oggi dopo la nomina deliberata il 16 dicembre dal commissario straordinario dell'Asta di Pesaro Urbino, la dottoressa Maria Capalbo. La sua nomina, in qualità di direttore, rappresenta una sfida cruciale per creare quel percorso di integrazione tra ospedale e territorio nell'area materno-infantile su cui la Regione sta investendo. Diamo spazio alle vostre segnalazioni e partiamo dalla zona di Bellocchi a Fano. Domenica mattina ci ha scritto un telespettatore, mia madre stava tornando da fare la spesa a piedi in via Einaudi, quando nell'attraversare la strada all'altezza del negozio di abbigliamento Gio a causa di un dislivello ha fatto una storta, è caduta a terra e si è rotta la caviglia poi ingessata, una situazione che l'ha obbligata ad annullare un intervento previsto per domani. Non ha intenzione di sporgere alcun tipo di denuncia, ha precisato il figlio, ma con questa segnalazione vorrebbe raggiungere chi di dovere affinché metta mano a questa strada. Servono degli attraversamenti per mettere in sicurezza i pedoni. Passiamo alle foto scattate da un nostro reporter di strada, ai Giardini Biancherie e Morelli e a quelli di fronte alla Rocca Malatestiana per denunciare atti di vandalismo. Come vedete dalle immagini sono stati ribaltati un cestino della spazzatura e un pennello pubblicitario e sono state rovinate una panchina e parte del muretto. Un altro reporter invece ci ha segnalato di rifiuti abbandonati in fondo a via Papiria dopo l'azienda Lim. In questi mesi sono state tante le segnalazioni anche sul parcheggio dell'ex foro Boario, siamo sempre a Fano. L'assessore Barbara Brunori ha annunciato l'avvio dei lavori che termineranno nel mese di giugno. È prevista una chiusura a step per limitare i disagi ai cittadini. Sentiamo i dettagli. I lavori di riqualificazione del parcheggio del foro Boario, un parcheggio di forte riferimento alla città sia per la localizzazione in cui si trova ma anche per la capienza, sono partiti. Sono partiti nel senso che abbiamo diviso, abbiamo affidato i lavori, abbiamo suddiviso l'area in otto settori proprio per creare meno disagi possibili alla mobilità ma anche alle persone che dovevano appunto parcheggiare la loro auto e quindi nel suddividere queste otto sezioni siamo partiti dalle parti centrali. In questo caso a partire da oggi è interdetta una delle parti centrali, quindi due filari quelli in contrapposizione con la parte diciamo lato ospedale proprio perché inizieremo a fare dei lavori di sottoservizi quindi comprendendo le caditoie, quelle che sono le installazioni per quanto riguarda tutta la nuova illuminazione che passa da 12 a 35 punti luci proprio per aumentare la luminosità ma anche il livello di sicurezza di quel luogo. Procederemo con la cordolatura delle aree, con appunto la realizzazione delle aiuole ma anche con quello che sarà tutta l'operazione poi di asfaltatura e di segnaletica successiva. È chiaro che avendo suddiviso queste aree in otto sezioni una sarà conseguente all'altra quindi lavoreremo per piccoli spazi proprio come dicevo prima per creare meno disagi possibili. È importante sottolineare che passiamo da 332 posti auto di cui 12 riservati a persone con disabilità, 2 a donne con gravidanza e 2 con carico e scarico, più 10 nuovi posti per moto e 45 per biciclette. Considerando che verrà migliorato anche tutto l'ingresso del parcheggio appunto con della nuova pavimentazione, verrà risistemato il cancello, ecco verrà data un'area di decoro e sicurezza sicuramente migliore oltre che di miglior fluibilità proprio perché i parcheggi a questo punto saranno con una segnaletica ordinata e daranno la possibilità di avere anche una mobilità certa e sicura. Rispetto alle 120 alberature che erano a dimora noi in questo momento ne dovremo per questioni proprio di mobilità, di nuova mobilità del parcheggio ne dovremo e anche di salute delle stesse alberature ne abbatteremo 24 ma a queste diciamo ne andremo poi a mettere a dimora tante altre perché ne verranno messa a dimora 31 e quindi all'interno dello stesso perimetro proprio per garantire anche quel benessere di salute che sappiamo bene alla pianta porta. I lavori si manterranno sino a giugno è un importante intervento che è pari a 800 mila euro per il quale ci siamo candidati attraverso delle risorse dei bandi PNRR ma anche delle risorse regionali che siamo riusciti a conquistare proprio per migliorare quello che era la qualità dell'area. Per l'occasione adesso diciamo della carnevale visto e considerato che sarà la prossima manifestazione importante come amministrazione metteremo a disposizione nelle tre giornate di carnevale una navetta gratuita che partirà proprio dal parcheggio dell'ex matatoio ma anche del parco urbano proprio perché comprendendo che questa cosa potrebbe interagire con quello che poi è un servizio di prossimità e cerchiamo di metterci a disposizione. La visione è sempre totale. Ci spostiamo ora a Rosciano di Fano dove ad un agricoltore che vorrebbe regalare acqua depurata ai cittadini gli è stato negato l'allaccio perché non avrebbe un'autorizzazione edilizia. A suo fianco il capogruppo consigliare della Lega Gianluca Ilari che ha verificato la normativa vigente. Lei ha un'attività commerciale e vorrebbe realizzare un progetto a cui crede molto. Di che cosa si tratta? Si tratta di un distributore di acqua ionizzata alcalina che vorrei dare questa possibilità di usufruirne ai cittadini chiunque ne volesse fare uso e quindi non avendo la possibilità di usufruire dell'acqua del mio pozzo perché è troppo inquinata e sono andato ad Asset a sentire se mi potevano dare dell'acqua adotto. In prima ipotesi mi hanno detto che non avevo una concessione edilizia e quindi non potevo essere allacciato. Poi ho avuto l'occasione tramite un mio cliente di conoscere un consigliere comunale, Gianluca Ilari appunto che il mio cliente mi ha detto che è molto sensibile su queste cose e quindi mi ha aiutato anche a percorrere e fare altri passi e ad avere anche altre conoscenze. Infatti il regolamento si parla di concessione edilizia ma anche parla di concessione edilizia o titolo equipollente. Il titolo equipollente è che secondo me e secondo altri avendo una serra e un'attività commerciale io possiedo ma sia a livello di Ato che a livello di Aspes mi hanno continuamente negato la possibilità di allacciare all'acquedotto acqua che non volevo sicuramente gratis dal comune quindi dall'Asset ma avrei pagato regolarmente come tutti i cittadini di Fano. Ascolti, lei a tutt'oggi non ha avuto alcuna risposta da Asset da nessuno? Infatti quello che mi dispiace molto è che non si sono neanche degnati di darmi una risposta scritta, solo verbale non ti possiamo allacciare, non ti possiamo allacciare però una risposta scritta sulle motivazioni reali per cui non mi allacciano ancora io non ce l'ho. Ma come è nata questa idea e soprattutto perché vuole regalare l'acqua? Allora l'idea è nata perché appunto come dicevo prima io ne ho usufruito per diverso tempo e ho avuto dei miglioramenti a livello fisico, dalla pulizia dei reni non ho più la renella ho quasi eliminato i problemi a livello urinario che avevo ed altre piccole cose molto importanti tra cui per esempio non ho più l'acidità di stomaco, Gaviscon non so chi lo conosce, non lo uso più mi dispiace per il farmacista ma non lo compro più. Il perché? Il perché è semplice o è difficile non lo so, decidetelo voi. Allora vi rispondo con una domanda anche se non si risponde di solito con le domande perché un cittadino regala l'ambulanza alla Corcia Rossa e io regalo l'acqua ai cittadini. La concessione di inizia perché la legge... Gianluca Chilare lei ha approfondito questa tematica e è andata a verificare anche la legge Ato, che cosa dice? Sì, la legge in questione prescrive alcuni adempimenti tecnici e alcune caratteristiche di idoneità urbanistica. Mi ha molto incuriosito il motivo per il quale Aset non abbia dato corso alla richiesta di allaccio di questo cittadino che vuole regalare l'acqua a tutti i cittadini di Fano e sono andato a verificare le carte. Questa corrispondenza urbanistica c'è, è nella Bosetti Gatti, che è la legge nazionale a cui dobbiamo fare riferimento in termini urbanistici quindi ci sarebbero tutti i presupposti per poterlo allacciare. È singolare il motivo per cui Aset non dia corso nemmeno a una risposta alla richiesta di allaccio perché credo che sia un'iniziativa a cui l'amministrazione comunale dovrebbe, dal corso, verificare il motivo per il quale un cittadino non sia libero di regalare dell'acqua purificata a chiunque ne abbia bisogno. E al momento Aset ha deciso di non replicare. Alla Torraccia di Pesaro invece i residenti sono preoccupati per la realizzazione di un biolaboratorio per i progetti che si intendono sviluppare nella struttura un caso che arriverà anche a Regione. Un grave pericolo turistico, economico, sanitario, di sicurezza ambientale e di libertà per la nostra democrazia è quanto si legge in un volantino diffuso dai residenti del quartiere Torraccia contrari alla realizzazione di un biolaboratorio per il quale lamentano poca trasparenza e molti dubbi. Come ci spiega Marco Palanghi, tutto è iniziato dall'autorizzazione concessa dal Comune di Pesaro alla vendita di un terreno pubblico per la creazione di un laboratorio di biosicurezza tra Via Furiassi e Via Grande Torino dietro la Vitrifrigo che sarà gestito dall'Istituto Zooprofilattico di Marche e Umbria Togo Rosati. Nella delibera si precisa che si tratta di una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell'uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico. Ma non solo, si prevede anche un'area complessiva di 15.000 metri quadrati nella quale verranno realizzate anche delle stalle per la stabilazione di grandi e piccoli animali. Il terreno, ha spiegato il residente, è a rischio inondazioni e la zona è considerata paludosa in quanto è vasca di contenimento per il fiume Foglia. Oltre al rischio sismico si trova nelle vicinanze di strada il quanto trafficate, di un eliporto, del depuratore cittadino, di un parco giochi e vicino a 400 famiglie residenti. Daremo battaglia assicurato insieme al coordinamento Marche-Province Unite affinché ciò non avvenga. È stata già lanciata una petizione per la quale stiamo raccogliendo firme in tutta Italia. Si è ben chiaro che non siamo contrari al miglioramento del nostro istituto zooprofilattico qui di Pesaro, ma quello che ci preoccupa è il livello BSL3 che è un livello di sicurezza che prevedono protocolli di cui non siamo stati informati ed è proprio il tema della sicurezza che ci preoccupa. Ovunque sono presenti questi biolaboratori abbiamo notizia che almeno ci sono due o tre criticità al mese che sono delle situazioni di pericolo. A scendere in campo anche la lupus in fabula che chiede risposte certe e urgenti. In una nota l'associazione ambientalista ha riportato le dichiarazioni del direttore dell'istituto Vincenzo Caputo, il quale aveva riferito che non si fanno sperimentazioni nemmeno genetiche perché questo non è nelle nostre strategie. Un concetto ribadito anche dall'assessore Pozzi. Il fatto che sarà un centro più innovativo, aveva dichiarato, non significa che all'interno verranno eseguiti esperimenti in laboratorio e manipolazioni genetiche. Rassicurazioni che non convincono i residenti e il caso arriva in regione. Infatti il presidente della commissione sanità, Nicola Baiocchi, ha convocato i responsabili dell'istituto per mercoledì 18 gennaio al fine di chiarire i dubbi e rendere noti i progetti. Ci preoccupa lo stallaggio di piccoli e grandi animali che potrebbero procurare oltre al cattivo odore, la puzza, anche la questione degli agenti infettivi come le zanzare e la gestione dei liquami e delle carcasse. E alzare di livello la gestione degli animali con sperimentazione in vivo e in vitro, come viene detto dalla stessa delibera che loro stessi scrivono, quindi noi ci atteniamo allo scritto e non alle parole che ci vengono dette per rassicurarci. Ci preoccupa perché c'è chi ci dice che sarà uno spallanzani degli animali, ma qui la quarantena non è finalizzata alla guarigione di questi animali, ma alla sperimentazione, ovvero vengono portati animali sani qui, fatti a malare per verificare poi l'evolversi delle malattie e capirne poi le eventuali cure. Ma questo secondo me, dato le tante battaglie che abbiamo fatto sulla vivisezione, sulla gestione di laboratori lager sugli animali, la cosa è veramente insopportabile umanamente. Quindi voi siete qui per chiedere non lo spostamento, ma addirittura di non farlo proprio questo biolaboratorio? Noi siamo contrari a queste pratiche, ovunque esse si facciano, perché non è spostando i problemi che questi si risolvono. Vediamo solo del business, troppa tecnologia e poco cuore. Il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni hanno ricevuto Giacomo Tomassi Galanti e Luca Benvenuti di Pesaro e Andrea Rosati di Iesi, che nella mattinata di venerdì 6 gennaio si sono gettati in mare, nelle acque davanti alla palla per salvare una donna in difficoltà. Pesaro è una città solidale grazie al grande cuore di chi la abita e la vive quotidianamente, hanno detto Ricci e Belloni nel consegnare il plauso ai tre cittadini per l'eroico gesto espresso con coraggio e umanità, si legge, nell'azione di salvataggio di una persona disperata dal suicidio, oltre che per essere esempio verso il prossimo di elette virtù civiche e di senso di comunità. Un gesto che per i tre è stato spontaneo. Nei giorni successivi siamo stati tempestati di messaggi e di chiamate, hanno rivelato segno che quello che abbiamo fatto, così scontato, forse non lo era. In quei secondi, che sono sembrati ore, non ci siamo accorti della temperatura gelida dell'acqua. C'era una persona in difficoltà, hanno concluso, ci siamo buttati senza esitare e siamo felici di essere stati d'aiuto. Ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Valentino Bellagamba e a Iride e Omiccioli, residenti a Bellocchi di Fano, che ieri hanno festeggiato 70 anni di matrimonio. Dopo aver rinnovato davanti a Dio la promessa di amore eterno, sono seguiti i festeggiamenti con gli affetti più cari, a far visita alla coppia anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. E grande festa anche a Colli al Metauro per i cento anni di Giuseppe Baldelli. Nato a Fratterosa il 14 gennaio 1923, Baldelli ha combattuto la seconda guerra mondiale ed è sopravvissuto a due anni di prigionia. Sabato scorso ha festeggiato insieme ai familiari questo importante traguardo alla presenza del sindaco Pietro Briganti, della sua vice Anna Chiara Mascarucci e del medico che lo segue, il dottor Luca Sanchiù. E noi tra poco torneremo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Sarà nostro ospite il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli. Vedete in questo cartello i numeri di riferimento. Vi ricordo invece che domani sera partirà il nuovo programma di Fano TV dedicato allo sport e condotto da Andrea Maduzzi. Mentre mercoledì sera nel corso del Tg annunceremo il vincitore del nostro concorso intitolato alla scoperta dei presenti. Grazie per averci seguito ma ci rivediamo tra poco. Ora previsioni del tempo. Grazie per aver guardato il video.